che spettacolo un circo divertentissimo un'ora di puro divertimento forse anche più bellissimo beh ragazzi vedete questo circo mi attrae mi attira mi incuriosisce voglio entrarci che bella musica sentiamola il circo dei saltimbanchi scusate se la disturbiamo ma per caso ha visto il sindaco melucci la sua maggioranza non ha visto nessuno non ha visto ancora nessuno ma forse arriveranno perché è il circo dei saltimbanchi ovvero di melucci e della sua maggioranza arriveranno arriveranno in questo circo musica maestro